Ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube, oggi tornano tattiche istruzioni di un modulo che ha fatto le gioie di molti allenatori di foot l'anno scorso, sto parlando del 3-5-2, un 3-5-2 particolare però perché andando a cavalcare quella che è un po' l'onda dei moduli di quest'anno in fase difensiva questo diventa tutt'altro e vi dà la possibilità di essere anche molto più efficaci poi quando si va a ripartire in contropiede. Ma senza spoilerarvi troppo andiamo subito a vedere di che si tratta. Eccoci dunque all'interno della nostra schermata della formazione e come potete vedere ho schierato appunto i miei giocatori con un bel 3-5-2 di mazzarriana memoria e questo è composto da tre difensori centrali, due mediani, due esterni, un trequartista e due punte. Andando ad analizzare quelle che possono essere le caratteristiche dei giocatori presenti all'interno di questa formazione, beh chiaro che per quanto riguarda i difensori centrali è possibile avere o tre difensori centrali di ruolo oppure due centrali e un terzino magari con caratteristiche un po' più difensive da andare ad inserire assieme ai due centrali di ruolo. Per quanto riguarda i due mediani andiamo a preferire due giocatori che possono essere o un box to box e un giocatore più difensivo oppure due giocatori un po' più difensivi considerando che devono essere le due dighe prima di poter andare a selezionare i difensori come proprio ultima spiaggia. Sui due esterni ovviamente abbiamo bisogno di due giocatori che sono veloci dotati di una buona gamba possibilmente che siano anche in grado di saper passare bene e di finalizzare se chiamati in causa. Sul trequartista abbiamo bisogno di un giocatore estremamente veloce e tecnico e anche in questo caso dato di ottimi passaggi per servire le due punte che anche qua devono essere due giocatori rapidi dotati di gamba per andare via in ripartenza meglio ancora se abbiano le 5 di skill e il 4 di piede debole minimo affinché possano essere imprevedibili quando si tratta di arrivare nell'area di rigore avversaria magari fare la giocata prima di andare a concludere. Quindi questo per quanto riguarda quelle che sono diciamo le indicazioni di base per andare a scegliere le caratteristiche giuste per i giocatori da inserire in questa formazione. Per quanto riguarda invece le tattiche iniziando ad andare a toccare con mano più il cuore di questo di questo modulo per quanto riguarda lo stile di difesa andiamo ad utilizzare equilibrato per il motivo che questo in fase di difesa deve essere un modulo gestito in maniera ordinatissima perché non vogliamo andare a creare squilibri e scompensi con un pressing automatico che potrebbe tirar fuori i nostri giocatori dalle loro posizioni naturali quindi ponendoci in una condizione di svantaggio no perdendo il vantaggio che una formazione del genere ti va a dare e sulla profondità utilizziamo 70 perché non voglio che sia né troppo alta né troppo bassa visto che essendo una bella linea schiacciata compatta insomma mi fa da muro e l'avversario prima di riuscire a entrare deve lavorare tanto la palla. Per quanto riguarda invece la costruzione della manovra offensiva qui abbiamo delle novità rispetto al solito perché per quanto riguarda la costruzione in particolare utilizziamo palla lunga. Palla lunga che cosa fa? Come ci dice la spiegazione lì sulla destra i giocatori saliranno per sfruttare i lanci lunghi nello spazio a scavalcare la difesa o verso una torre. Gli attaccanti veloci con un buon piazzamento offensivo sono i migliori per questa tattica per cui nel momento in cui andiamo ad impostare un'azione d'attacco con palla lunga i nostri giocatori cercheranno tanto la profondità sia per quelli che sono i filtranti bassi ma soprattutto per quelli che sono i filtranti alti e da qui ovviamente spiegato il perché abbiamo bisogno di giocatori dotati di un bel passo qui davanti altrimenti viene meno l'idea di utilizzare palla lunga. Sulla creazione occasioni invece abbiamo passaggi diretti perché con passaggi diretti i nostri attaccanti cercheranno ancora una volta maggiormente la profondità e quest'anno che si va tantissimo a usare il filtrante lungo di prima che a scavalcare spesso e volentieri vi manda in porto praticamente con due tocchi la combo di queste due tattiche per me è devastante se utilizzata con questa formazione. Sull'ampiezza vado ad applicare 40 perché questo è un modulo che già praticamente con i suoi interpreti va a coprire una grande superficie di campo quindi non è che ho bisogno di andare ad aumentare troppo l'ampiezza per evitare di creare delle scollature tra i reparti ma anzi cerco di stringere un po' in maniera tale che i due esterni non siano troppo esterni ma vengano a dialogare bene col trequartista e le punte e inserirsi in area di rigore per creare spazi e soprattutto anche per quanto riguarda il COC non si vada troppo ad allargare da una dall'altra parte ma riganga bello centrale sui giocatori in area 5 che è bene o male un compromesso che trovo ottimo per quanto riguarda la frequenza degli inserimenti con questo parametro angoli e punizioni invece vado a utilizzare 1 e 1 per evitare che vada a prendere dei contropiedi fastidiosi su quelle che sono i calci piazzati calci da fermo per quanto riguarda le istruzioni e qui entriamo nel vivo di quello che è poi il camaleontismo di questo modulo questo è un 3-5-2 come vi dicevo che però in fase di difesa non diventa un 5-3-2 ma un qualcosa di particolare perché difendete con un 5-3-1-1 e in particolare andiamo a vedere come e vi spiego anche il perché di questa cosa allora sui 3 difensori centrali ovviamente andiamo a tenere resta dietro in attacco perché voglio dire è la base loro devono stare qua e non vogliamo assolutamente che si muovano sui 2 mediani invece andiamo ad applicare intercetta le linee di passaggio resta dietro in attacco e copertura al centro resta dietro in attacco e copertura al centro le abbiamo imparate a conoscere ormai mentre su intercetta le linee di passaggio invece questo è fondamentale affinché siano sempre posizionati bene tra le linee in maniera da possibilmente intercettare i passaggi avversari e comunque avere un posizionamento migliore a prescindere su quelle che sono le manovre offensive dei nostri avversari su due esterni per andare a completare la prima linea difensiva ovvero quella dei 5 difensori andiamo ad applicare rientra in difesa inserisci di alle spalle ed entra in area per il close ovviamente su entrambi questo cosa significa che nella nostra manovra offensiva cercheranno di tagliare alle spalle della difesa avversaria soprattutto grazie al nostro palla lunga cercheranno di essere serviti con questi filtranti alti mentre in fase difensiva invece ritorneranno e andranno a ricoprire il ruolo di terzini ovviamente dotati di licenza di uccidere perché poi in contropiede sono i primi a salire sul trequartista invece mettiamo rimani avanti ed entra in area per il cross rimani avanti perché? perché il nostro trequartista nella manovra offensiva deve essere il faro dal quale parte sempre la ripartenza il giocatore sul quale magari ci andiamo ad appoggiare in maniera tale da poter poi o far salire la squadra o lanciare direttamente la punta che è rimasta davanti e a tal proposito proprio per quanto riguarda la punta che è rimasta davanti il nostro attaccante di destra lo andiamo a settare sul rimani centrale inserisciti alle spalle e rimani avanti anche qua vogliamo un giocatore di riferimento lì che spaventi il nostro avversario quando si tratta di dover ripartire in contropiede perché questo è un modulo chiaramente votato alle ripartenze e con rimani centrale voi avrete sempre nella zona del cerchio di centrocampo un giocatore pronto a inserirsi nel momento in cui recuperate il pallone quindi che spaventa no? l'avversario su invece l'attaccante di sinistra andiamo a mettere rimani centrale inserisciti alle spalle e rientra in difesa e quindi andiamo a completare il 5-3-1-1 con Anthony e Phillips che scalano in difesa il nostro attaccante che va alle spalle del trequartista e va a comporre questa linea con i due mediani a 3 e poi abbiamo il trequartista e l'altra punta perché gli mettiamo rientra in difesa? perché abbiamo così poi il vantaggio di avere il terzo a centrocampo che è una punta e quindi può inizialmente avere qualità nel riavviare l'azione e poi una volta che è andato con palla lunga partendo da dietro è una minaccia in più che l'avversario non si aspetta per essere servito con i nostri filtranti alti ed è quindi questa l'arma segreta di questo modulo che come vi dicevo sembra un 3-5-2 banale ma in realtà in fase di difesa passa con 5 difensori e non è un 5-3-2 classico ma è un 5-3-1-1 con un trequartista dietro una punta di riferimento pronta ad essere affiancata poi dall'altra che ritorna ovviamente a fare da reparto insieme a quell'altro raga per questo video è tutto fatemi sapere cosa ne pensate di questa formazione nei commenti se la proverete io vi devo dire mi ha sfiziato parecchio è abbastanza simpatica e divertente soprattutto in Weekend League vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola trovate il link in descrizione non mi resta che salutarvi augurarvi una buona giornata sono Dan Riberowski ciao